Salute a tutti, è da tanto che non ci vediamo, siamo tornati con i loschi figuri a fare 5 gnar. Eccolo là, signori. Quello era un losco figura? No, 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 non mi so. Stiamo facendo 5 gnar. 5. Nel caso uno non fosse abbastanza, fatene 5. Mi raccomando. E mi chiedo questo, Lorenzo. Goddammit, FPS. Au. Vai, Guido. Guido, mi sto trasformando. Guido, mi sto trasformando. Guido, Guido. Sì, di quello. Mi sto trasformando. Guido. Guido. Lo sto ammazzando, Guido. Vieni qua. Vieni qua, Guido. Arrivo, arrivo. Vieni, Guido, Guido, Guido contro il muro. Bastardo schifoso, maledetto, non si dicono queste parole. Che bella, Kumadon. Bellissima. Main. Va bene così, va bene così. Ma stai, con basta, che stanno io non posso, che fa, non posso smadronare, che trovi. Sì, puoi farlo, dai, metto i bip. Ma stai registrando qui. Ah, ora l'hai capito. E il salute a tutti, da tanto che non ci vediamo, chi doveva essere rivolto. Ah, la musica un po' troppo altra. Ah, è vero. Gnarr, Gnarr. Gnarr, da quanto tempo? E sto nel ghezzo per 12 miliardi di miliardi. Gnarr, non ti ricordo quando ci prendevamo il caffè insieme nel presto gene. Gnarr, da quanto tempo? L'hai detto tu. Guido, che c'è? Ah, Guido, vuoi fare il drago? No, aspetta, aspetta. Che c'è? Può anche tornare dopo. Stai tranquillo, Guido, non ti preoccupare. Mi piace un sacco Guarda ragazzi c'è uno di questi cosi rossi nella mia giungla Ah oh che cavolo Oh ma che danni sono Oh ma che diavolo Oh mio dio Eccolo la signori Ecco la differenza tra uno Gnar e uno Gnar Uno Gnar e Gnar Ma se quello Gnar è Angel succede questo Che mi sale Q Che si fa stunnare Che mi fa calare gli FPS quando lo guardo Che va lì, va in lo cespuglio E per poco non si fa la doppia Lory devi crash Sto spiaccicando questi lupi Sto spiaccicando questi lupi Vai Angel non ti preoccupare All calculated Nooo KS Nooo Andiamoci Arrivo Guido Anzi no Provo a farmi il drago in sneaky No è lory Madonna mi fa più danni di quanti OMG Dai ma che ci fanno tutti questi cosi Nella mia jungle Guido li hai portati tu, vero? No Uno di loro Sei uno di loro Angel caduto combattendo Vai Guido Bravo Reporotro Reporotrate Guido Reporotrate Angel for no gang Sì ma Angel non gang Giusto Pensione Pensione gli insect KS KS Apa pa 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 s Apa s Lo comprerò Ignar è troppo figo Io me lo devo comprare È uno di loro No Reignar Devi comprare tutti bro Let me stack the devourer Sei inutile Let me stack my shit Ma ma Oltre la cui di Lai Non mi saltare sulla testa Sulla testa Brutto saltatore di testa No la è ancora Aspetta un attimo Ti salto sulla testa Aspetta un attimo Ah di nuovo Maledetto Ammazziamo sto granchio di merda Nooo Mi sto trasformando Mi sto diventando un mostro Se vuoi No mi è abbandonato Vito 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 Fuck Fuck Curo Tutto Eeeh 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 Tutto ok? Che cazzo di cazzo è Che cazzo di cazzo è Che si sbloca Vito Conquistiamo la giangla Guarda ma io posso mangiare la coda qua? Sì Compà non dovrei mettere nessun biffo in quello protetto vero? Ah non l'ho sentito ma lo risentirò dopo Esatto bravo Se c'è qualcosa da biffare verrà biffato Nooo Eh le cose da biffare vanno biffate e biffate Au 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 Ooooo No Ma che cosa si sta baitando questo? Vabbè Fulla P Ovvio No quello fu la P Un oggetto P A 30 P A Eeeh Leggi il suo nome Eeeh Eeeh 1 con quei 30 P 1 shot Ok abbiamo un problema Giusto Ragazzi che abbiamo un problema Abbiamo un problema Questi Gnar stanno subendo un aramento da parte di questi Questi diversamente etero Ragazzi anche alcuni sono azzurri alcuni rossi Ma poi perchè tutte ste skin di Taric? Da quando è così comune? FPS FPS Vai Lori Insectali Sì Non ti preoccupare Lori Lo raggiungerò io Tenor io il... Non mi stunnare Magari hanno attivato il boost e qualcuno si... Oh madonna Che santo Maledetto Oh 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 c'è un TP in corso C'è un TP in corso C'è un TP in corso Eeeh Mamma mia la combo! La combo di Guido! Guido! Beh dai la... La combo è stata bellissima Ma diavolo ci arano come non so cosa Eeeh Vai Angie l'ha capito tutto Hanno capito tutto anche loro Sì What? E cos'è questo silenzio? Ah 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 Yeeeh Attenzione E' pieno di Taric E' pieno di Taric E' pieno di Taric Ci sono un sacco di Taric Madonna ma riusciremo ad ammazzarlo questo... Mamma mia quanto ci vuole Mamma mia quanto ci vuole Questo Guido spacca What? OMG! K... Sì Oh e allora avevo ragione Sono crasciato da tier Ma stai ancora negli strani? Si Ma se cazzo mi sono... Io come io stai ancora negli strani Non mi sono... Sono giusto Per essere una cazzo E poi stai ancora negli strani Se stai ancora No ero crasciato e non me ne ero... Da parte che sono crasciato Si Da quando io tipo Mi sono cazzo come una belva Ecco non l'ho sentita Quindi da un bel po' Si No aspetta E' evidente quando ho detto Uccide ancora quando ho detto Il linea... C'è messo il linea e deve morire Per forza No non me la ricordo sta parte Ammazzatelo No Non ti squisci Iaaaaa Iaaaaa Arrivano il mio ultimo Ok ragazzi stiamo cominciando A insegnargli Cosa vuol dire 5 gnar 5 gnar Stanno cominciando ad imparare il significato di 5 gnar Aiaiaia Aaaaaa Madonna mia le combo Le combo ragazzi Le combo Mi ha doppio sasso 1 Madonna foc quella u Dove ca... Gnar che che sto fai? Ok 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 Stay calm Stay calm Io caro Si vuole ma... Si vuole ma... Si vuole ma... Ma è caro Dello stronzo Che sta succedendo? Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Fermo lì il stupido ciccione Di un mostro di... Ti prendo allegnato in testa Ti ammazzo C'è... Quello che ti faccio è... Muori Madonna... Una cura continua Guarda lì... Guarda lì... Guarda lì... Guarda lì... Non ho lasciato... Il solo Ecco la... Sì... Si... Si la... Ma tipo che io lo cominciò per la ulti e ti spammavo R R come random Ecco traduco... Ed Angel sta dicendo... Ma hai wardato ovunque Pola... Dov'è questo che dico? Chiamatelo Ma smetti di wardarmi... Ti ho chiestooo E' scaduto... La trasforma... Ma porca di que... Io non ci credo E' sc... E' non è... Era il deserto potente E' scaduto E' sto tizio... C'è sto tizio fa i danni quando non te lo aspetti Tipo per 30 secondi sta là ti tocca e non ti fa niente Quando meno te lo aspetti e... Ti shota Poi ti tira quelle palline luminose e ti stunna Ecco... Bellissimo Aspetta un attimo... Vai Guido aralo... Aralo Guido... Guido aralo... Bravo Guido Grazie Niente... Grazie a te Credevo di avere il devourer saturno ma non è così Ma Guido... Non è così Saturno Saturno Oh la è saturno Dai il brutto vero di un grancho di merda Oh è lui Ci penso io Nooo... Iaaaa... 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 Ragazzi ti ti è puntare Ma non muore mai... Non muore mai... Quanto è chi ci vuole... Guido dove vai? Vai Guido... Guardalo... Grande Guido... No che cazzo faccia? Guido... Possibilmente non sotto la torre... Guido... Possibilmente trasformati... Nooo... Nooo... Non ti preoccupare Lori... Non ti preoccupare... È tutto... Aia... Lori... Lori... Almeno tu salvati... Rendi Ward il mio sacrificio... Scappa... Rendi Ward il mio sacrificio... Scappa... Scappa... Aia... Scappa... Aia... Scappa... Scappa Lori... Scappa Lori... Lori scappa... Lori... Lori ci stai facendo vivere grandi emozioni... Attenzione Lori... Nooo... 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 Cioè è o non è come ho detto io... Che quando meno te lo aspetti... Ti fa... Ti sciotta... Raga voglio l'assist veloci... Engie il sasso... Carta forbice... Esatto... Nooo... Giocco di me... Ahahahah... Un altro beat... Quanti beat... Andiamo... No vabbè... Considera che ero crashato... Quindi un po' me li sono persi... Che cazzo... Ho detto... Una madonna... E... Ma che... E' fuoco... E' fuoco... No... E' il giro di qui... Ci sei... Vado a drop... Ho chiuso il tuo potere... Molto... Fuoco... 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 Ma sti simbioni fanno... A P o A D? Che... Che danno fanno questi? Entrambi... La ultimità di... E' almeno... Ma... Si... Si... Leggi il tuo nome... Ta... Ta... Ri... Ta... Ri... K... Ok... La smette di ritirare Boomerang là sotto... Come se ci fosse qualcosa... E infatti il drago c'è... Ma è là di fuori... Pss... Si sente... Pss... 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 Aspetta Guido... Ti tiro il mio Boomerang... Abbiamo tre Draghi... Raga Nid... C'è un tot... Ah... C'è un grosso esemplare di Taric... Raga... C'è un grosso esemplare di... C'è un grosso esemplare di... Profumestruato... ULTI! No... In qualche modo non ci sceglie... Raga non diti che sto bussando... Troppo super... No no... Non lo sanno... Non lo sanno... Non sospettano minimamente... Raga... Scusa... Raga... 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 Hai fatto Reggio qui... Raga... Prendi la torre almeno non avrei worth... Inattimo! C'è un attimo! C'è un attimo! C'è un attimo! C'è un attimo! Sì! Grande Lori! Honor Lori! Molto da eroe! Guido tutto a posto? Yes! Sta arrivando un... Uno bene! Uno o più di uno! No due due! Corri Guido! Guido abbiamo un problema! Guido abbiamo un problema! Guido abbiamo un problema! Aia aia! Aia! Quanti tanni! Ma che tanni! Aia! Bisogna andare tanto contro sti qua! Piccane! Ti uonarano! Edno non posso venire! Vuoi dire la mia vita no? Ragazzi abbiamo un problema più urgente qui! No compo! Che esempio odiamo se sorrendiamo? C'è un pochino! Dadevo dare un buon esempio! Guarda quause! Se state flittando! Filtate fino alla fine! A parte il fatto che non siamo poi così... No guarda eh! Guarda! Guarda! Ce la fate, mica E ce la fece Guardate come passeggiano allegramente sotto torre Come non sentono il dolore Madonna Incredibile Ci vedenzano Bebbi l'HP che è qua L'ho visto George Au, au Non mi arare Usa il tuo potere Oh cavolo, dovevo tutti insieme Maledizione Cioè non è possibile Vabbè Questa dovevo tutti insieme madonna Ce li abbiamo prascati contro il muro Hanno fatto proprio Peccato che sono tariche Sono tutti tank Ecco, giusta osservazione Ergo noi non andiamo 5 contro 5 Noi invece possiamo come le bestie Ma anche se andiamo 1 contro Anche se andiamo 5 contro 2 Loro non muoiono lo stesso Ah, arrivo Angelo Fa tutto il giro Non andiamo nemmeno a 5 contro 2 Eh ma non lo sanno mai di 1 contro 1 Vuoi capire? Non andremo mai nemmeno 1 contro 1 Busciamo solamente Eh, noi lo sovrrendiamo Facciamo Spire Capite che va a segnare un cazzo stu barblero? Fa niente Facciamo una cosa, con paio tanko tanki tu Tanko cosa? Vabbè non c'è bisogno di tankare però ci sono i million Ok, stanno venendo in 5 ad ammazzarci Però se riusciamo ad ammazzare sta... No, non ce la faccio, vero? Non ce la faccio, vero? Non ce la faccio Forse becco Forse becco Non ce la faccio Non faccio in tempo I can't time I don't can't time I non ho tempo Give me some time Ok, NP Ho calcule E' un cazzo di taric Che dio E' insomma E' adesso Dovevate pensarci prima di entrare Di Cioè No, ma la cosa bella è che tu ti salvi, capisci? In una maniera scandalosa, tu ti salvi E la cosa bella è che Guido si fa la torre Guido, Guido ti dedico questo episodio Sei un mito in questo episodio No, non io che mi vanno con un cingale Guido ci sta carriando Silenziosamente Io più che altro Ehm Non attacco Non vado in t-fact Perché sicuramente La perdiamo Ecco, Guido ha capito tutto della vita Ok, ora riducigli quell'armatura Quella benedetta armatura Riducigliela e Aralo Ah, 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 quello lì Quello lì Mori, maledizione Soldi Soldi incredibili Non sono Cioè, non mi trovo, avevo fatto sbagliato Ma sono morti Ci curano come delle autoambulanze No, come delle troi Delle pacche che noi me lo stuprate Ma quelle non ci curano Non andate, 3-B-4 Io l'ho usato Ragazzi 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 Quilk Silver Double kill Scusate Scusate Se mi faccio la double kill E se mi trasformo in Megagnar Quando ormai non serve più Scusate 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 Guarda se prendo ammazzati ai minion da me addestrati Da me addestrati Da me addestrati Ragazzi Ragazzi è un Taric Qualche problema Ragazzi è un Taric Ragazzi è un Taric Scusate SS Taric Non è possibile Quella ha 400 d'armature Quello che sta combattendo Cosa Aveva 400 d'armature Ne ha tipo 300 Come cazzo fa? Come? E alla W E quanta gliene ha dato il W? Tipo 170 C'è sempre ribada questo tono di voce Esa E' un po' di voce LORI 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 Detto pro Non ho visto cosa hai fatto ma dalla minimappa sembrava qualcosa di figo Praticamente allora Lui era lì dove c'è Siamo No vabbè mi è riuscito Ciao Ovvio Vabbè Coppa stai ancora registrando Certo Ok Sai dove c'è la quicksilver vero? E' hanno 5 su Non mi piace Le scarpe non me le faccio subito Non posso scappare niente Io faccio qualcosa di cosa che si corre Qual'è quello che fa danni? Bisogna focussare quello di loro che fa danni Vanno 45 Tutti fanno danni Ma ci deve essere uno che sta dando a D mentre gli altri fanno tank Uno che sta dando più a P Uno che sta dando più a P Uno che sta dando più a P Ma la ulti La ulti La ulti ha dati a tutti Da uno a P Mi sembra che da più a tutti Ah questo qua Ah questo qua è uno di quelli che fanno danni Questo Ha 500 di armor Quella ha 500 di armor Ma 3500 di armor Megaman Allora Niku again e tank Megaman e super ultra tank Chekeu E' uno di quelli che fanno danni E Niku E Niku così così Focusate Chekeu e Niku Ecco non focussatelo Focusate Chekeu Non mi sto taggando io Che sta succedendo? Che sta succedendo? Che sta succedendo? No 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 Io mi ero trasformato Non me ne sono accorto Dai non fa bene I minion addestrati scusate Scusate Che cazzo è? 500 di armor Oh mio cani non è possibile 600 di armor Quella è 600 di armor Guarda una cosa Devevo fregarsi Nel quesito di ariche del cavolo Dobbiamo pusharla alla Qui tu sei il mio idolo Giottizio Guardate vedete questi minano Questi minano Questi minano Non ricordo questo Fatevi un oggetto A P Ci serve per la dotevo Un oggetto a P Qualsiasi raga Guardate questo A tipo prima mia 640 di armor Guardatelo è furbo Mi attacca ora che mi sono Ho capito la sua strategia Mi attacca quando mi trasformo Perché gli faccio meno danni E' ovvio Il piccoletto Fa più danni con dei temi Ok no Uno me lo faccio Non so qual'era Forse forse quello Fatevi Fatevi Un oggetto a P Madonna mia Forever stun però Madonna Guarda volevo tipparmi anch'io Raga Però il problema è quando siamo giganti Che non facciamo un cazzo di danni Adesso veloce Vorg Non ingaggiare quando Frega 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 Forgatene Un oggetto a P Dici Infatti il Rabadon Sembra quello che Sorge anche l'altra Sorge l'altra Fregandotene No ma aspetta Vado io a P Vado io a P Che c'ho il devourer L'applico continuamente sta Sta cosa Mi sembra una buona E' uno di cani quanto faccio E' visto che L'AP Non hanno magic Da quello che vi Stavo facendo full armor E possiamo venire Stato con il nostro vantaggio Visto che la nostra W è AP E se ci facciamo uno Due aggetti AP Facciamo più danni di W Allora io mi sono fatto il Rabadon Ecco anche perché io ogni 2x3 la attivo la passiva Mi sentiamo questa torre del cavolo Certo arrivo 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 E' ora di provare questi AP Guarda i danni degli AP Guarda i danni Guarda i danni Non dovrei essere qui Non dovrei essere qui lo so Basta stunnarmi però No 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 Sto cavoli Io faccio Tanto che tutti muoi Oh cazzo No mi salvo forse mi salvo Si mi sa che mi salvo Oh mi hai stunnato Guarda Guido Guido non vicino alla torre però Che stai facendo? Che fai? Non so cosa fare mai Come ce la tolgono Quando fa esplodere la W ti togli armor Tu sei Cazzo E' meno di te cazzo Eh beh Questa fai Dai Stupido gnaro Non ti trasformare ora Adesso mi servivi normale Quindi vendo l'armor Non ho capito una cosa rega ma Perché dobbiamo farci fu*****e? C'è Perché la nostra W fa danno magico E loro si stanno facendo full armor Guarda come l'ho aro Guarda come l'ho arato Il più tanker di tutti l'ho devastato Di basic Ora che c'ho il Rabadon Guido Ragazzi questo distingue un giocatore bravo Da un giocatore intelligente Noi siamo intelligenti Ci stiamo Buildando in una maniera inusuale Raga Lo vedo solo io gnaro No siamo gnaro ovunque No è il mio Oh ma che cazzo di flash Vai scappa fog Ah no Corri Questa è la smartness Questa è la smartness Questa è la boomerang Questa è la boomerang E ora il Nashor Tremate Il Nashor C'è già Lo sto facendo Ma tu c'è già tutta merda Mo mi vendo pure sto coso Tanto AP mi sto facendo Ora Ora ne riparliamo Ora ne riparliamo Voglio vedere ora che fanno Ora che ogni 2x3 gli tolgo 500 di danni magici Io ho 50 più 367 più 4x4 che è la tua macchina del bersaglio Fogli intanto che sono fuori Oh vai 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 fog fog spaccali inibitore Spaccalo Beh pushare qua no eh Troppo benissimo No pusha inibitore Meglio è meglio Questo video dovrei fare a due parti però bravo Oddio Oddio sta affinendo la memoria Veloci veloci Finite presto Pushate Mierda Mierda Grande grande ragazzi Abbiamo appena in tempo Ce l'abbiamo fatta Good job Non cliccare continua Non cliccare continua Ok Non cliccare continua Ok Oh mio dio mi son tippato Ho fatto un backdoor da dietro Bene ragazzi Grande Guido Grandi tutti Like and subscribe Grandissimo Mi raccomando Questo ci insegnerà una preziosa lezione Non buildatevi sempre le stesse cose Ma modificate la vostra build a seconda delle circostanze Questa è una preziosa lezione E smadonnare E smadonnare che fa sempre bene Ciao ciao